Studiare il Medioevo significa inevitabilmente occuparsi anche della Chiesa di Roma, dell'importanza che la Chiesa assume non soltanto dal punto di vista religioso e culturale, ricordatevi che la cultura del Medioevo in Europa è permeata dal cristianesimo, nel senso è totalmente assorbita dai valori, dall'immaginario, dai principi del cristianesimo, ma significa anche confrontarsi con un organismo, un'istituzione, che assumerà un enorme potere politico. Questo potere politico della Chiesa è definito dagli storici il potere temporale o secolare, per indicare in qualche modo un potere legato al proprio tempo, al proprio periodo storico, e si distingue invece da quella che è l'autorità religiosa del Papa dei Vescovi, cioè il potere spirituale. Questo potere temporale inizia ufficialmente nell'VIII secolo. Andiamo a vedere in che modo. Innanzitutto c'è da far presente che durante l'Impero Romano il Papa era una sorta, diventa in qualche modo una sorta di funzionario dell'Imperatore. L'Imperatore è il Pontifex Maximus, cioè il capo assoluto della Chiesa. In qualche modo alla fine dell'Impero Romano d'Occidente, quindi dopo il 476, l'assenza della figura imperiale fa sì che il Papa acquisisca, per lo meno nell'Europa occidentale, un'autorità ancora maggiore, divenga un punto di riferimento davvero importante non solo per gli abitanti dell'Italia, ma per vari popoli europei. E in qualche modo la sua autorità religiosa è condivisa con l'Imperatore bizantino, con l'Imperatore dell'ex Impero Romano d'Oriente, che conserva un ruolo di primo piano per la Chiesa cristiana orientale, quella che poi diventerà la Chiesa ortodossa. Quindi l'autorità del Papa era sottoposta a quella dell'Imperatore bizantino e conviveva con quella dell'esarca bizantino, cioè del sovrano bizantino in Italia, che aveva il controllo dell'esarcato d'Italia, aveva sede a Ravenna, la capitale di questo regno d'Italia, che era una dominazione bizantina in realtà. Senonché il potere bizantino in Italia verrà incrinato dai Longobardi, che gradualmente invadono l'Italia del nord e parte anche del territorio peninsulare, e quindi si spartiscono, condividono il controllo e la dominazione sul territorio italiano proprio con i bizantini. Questa spaccatura dell'Italia in due raggiunge poi un nuovo punto di tensione proprio nella prima metà dell'VIII secolo, quando c'è un sovrano Longobardo, Lut Prando, che vedete qui rappresentato in un'immagine su una moneta, che riprende sostanzialmente dei conflitti militari con i bizantini. L'obiettivo di Lut Prando era quello di provare a unificare l'Italia sotto un unico regno e quindi sotto la sola autorità della corona Longobarda. In questo scontro fra Longobardi e bizantini si ritrova, su malgrado, coinvolto anche il Papa. Il Papa, che all'epoca era Gregorio II, assume infatti un ruolo di mediatore fra i bizantini e i Longobardi. I Longobardi erano una popolazione prevalentemente di fede cristiano-cattolica, quindi avevano grande rispetto del Papa, così come ce l'aveva Lut Prando, che nel 728, proprio su intercessione del Papa accetta di interrompere questi scontri con i bizantini e nello stesso periodo fa al pontefice, al Papa, una donazione, la cosiddetta donazione di Sutri. Sutri è un paesino nella Tuscia, nell'area della Tuscia. Lut Prando cede al Papa il controllo di questo territorio, di quest'area, insieme al castello che aveva occupato precedentemente. Quindi il Papa si ritrova per la prima volta con un possedimento territoriale. Inizia a costruirsi quello che diventerà il territorio dello Stato della Chiesa. La situazione però non è del tutto risolta, perché negli anni successivi riprendono le tensioni fra Longobardi e bizantini, riprendono gli scontri, e addirittura Lut Prando stesso, nel 739, prende da sedio la città di Roma. Il Papa, a quel punto, si rivolge a Carlo Martello. Carlo Martello era stato il maggiordomo, cioè il condottiero principale dei franchi. I franchi erano la civiltà, il grande regno che si era sviluppato nell'area dell'attuale Francia, ma poi Carlo Martello ha assunto anche funzioni di re, avrebbe dato inizio in pratica a una nuova dinastia reale. Ecco, Carlo Martello interviene a favore del Papa in maniera diplomatica, cioè con degli accordi, non militarmente, e riesce a frenare l'azione di Lut Prando. Si inaugura in questo momento un'alleanza molto stretta e che sarà fondamentale fra il papato e il regno dei franchi, che diventerà la nuova potenza egemone, cioè la nuova potenza in ascesa, nel corso dell'VIII secolo, sul territorio italiano, come vedremo. Come avrete capito, l'Italia in questo periodo è un po' una polveriera. Ci sono i Longobardi che vogliono strappare definitivamente il potere ai bizantini e occupare i loro territori, e quindi puntano a Roma, perché Roma è una delle città più importanti dell'esarcato bizantino, una delle colonne del potere bizantino in Italia. Perciò, di fronte alla minaccia dell'invasione, dell'attacco di un nuovo re Longobardo a Stolfo, il Papa dell'epoca, Stefano II, nel 752 si rivolge al nuovo sovrano dei franchi, cioè Pipino il breve della dinastia dei Carolingi, chiedendogli di intervenire militarmente per frenare gli attacchi dei Longobardi. I franchi a questo punto, siamo alla metà dell'VIII secolo, entrano quindi direttamente in gioco negli equilibri politici e militari dell'Italia. Tra il 755 e il 756 le truppe dei franchi che scendono in Italia sconfiggono e respingono quelle dei Longobardi, quindi proteggono anche il Papa, e mettono in atto quello che era il Patto di Chiersi, cioè questo accordo che era stato stipulato, era stato stretto, fra Papa Stefano II e Pipino il breve. Questo accordo consisteva sostanzialmente in quella che è passata la storia come la donazione di Chiersi, dal nome della città in cui fu siglato il patto. Vediamo in cosa consisteva. nel 756 Carlo Magno, che sarebbe poi diventatore dei franchi, era in quel momento il generale delle truppe dei franchi, era l'erede di Pipino il breve, sconfigge Longobardi e quindi si attuano gli accordi di Chiersi, ovvero la donazione al Papa, allo stato della Chiesa, di quei territori che prima appartenevano ai bizantini, dopodiché i Longobardi, con le loro campagne di aggressione militare avevano strappato i bizantini. Quando i franchi sconfiggono i Longobardi, li respingono da questi territori, questi territori vengono donati dal re dei franchi, Pipino il breve, al Papa. Quali sono questi territori? Le aree che nella mappa sono colorate in verde e in arancione. Questa parte è quella che già corrispondeva in qualche modo al Ducato di Roma all'epoca dei bizantini e quindi l'area del Lazio, sostanzialmente. Qui c'è Sutri, che era stato l'oggetto della donazione di Sutri. Quest'area quindi passa sotto il controllo diretto del Papa, che ne diventa in qualche modo anche il governante, l'amministratore. Dopodiché l'area del centro Italia intorno a Perugia e questa parte di color arancione, che corrisponde sostanzialmente alla Romagna, corrisponde alla costa avariatica. Nel corso dei decenni successivi, quindi nella seconda metà dell'VIII secolo, i domini del Papa, i domini territoriali, si amplieranno ulteriormente. In pratica dall'area della Romagna si estenderanno ancora di più i confini dello Stato della Chiesa, andando a inglobare anche in pratica buona parte del resto dell'attuale regione, quindi le aree intorno a Ferrara, a Bologna, e invece proprio a nord del Lazio arriverà lo Stato della Chiesa, sempre nella seconda metà del Settecento, dell'VIII secolo, a inglobare anche parte della Toscana, buona parte della Toscana, l'area da Orvieto, Grosseto, quindi tutto il sud della Toscana. I territori in viola ancora no, quelli che vedete di color lilla, di color viola, invece sono acquisizioni successive dello Stato della Chiesa, però ecco, alla fine dell'VIII secolo tutta la parte in verde, in questo colore più chiaro, qui il sud della Toscana, e poi tutta la parte nelle varie gradazioni d'arancione, quindi l'Emilia Romagna, qui la costa Adriatica, gran parte del centro Italia anche, sono dominio diretto del Papa. Il 756, l'anno in cui Carlo Magno sconfigge Longobardi e Pipino il Brevere dei Franchi assegna ufficialmente questi territori al Papa, segnano quindi l'anno di nascita dello Stato della Chiesa a livello di potenza territoriale, a livello di Stato con un grande territorio, e segnano in qualche modo quindi la certificazione del potere temporale del Papa. Dal 756 il Papa diventa anche una sorta di sovrano, non è più soltanto una figura con un'autorità religiosa, con un potere spirituale, ma è anche, a tutti gli effetti, un sovrano con un dominio territoriale che si estende, come vediamo, dal Lazio, dall'area di Roma, sede e cuore della Chiesa di Roma appunto, all'Emilia Romagna, quindi all'area del centro nord dell'Italia. Nel 768 Carlo Magno diventa re dei Franchi, sei anni più tardi, dopo aver sconfitto i Longobardi e aver occupato gran parte dell'Italia, si autoproclamerà anche re dei Longobardi. Ecco, in questa occasione Carlo Magno conferma intanto la donazione di Chiesi, quindi rassicura il Papa sul suo possesso di questi territori che erano stati donati da fino al breve anni prima. Ma nel 774, proprio per legittimare, per certificare il fatto che il Papa fosse anche un sovrano, avesse un controllo territoriale, avesse un potere che si estendeva anche a delle aree dell'Italia, del centro Italia, avviene un episodio che è molto famoso all'interno della storia medievale, ovvero la costruzione di un documento chiamato la donazione di Costantino. Costantino era stato uno dei principali imperatori romani del IV secolo, era stato l'imperatore che in qualche modo aveva certificato la diffusione del cristianesimo nel territorio dell'impero, che era stato colui che aveva contribuito anche a rendere legittimo la presenza del cristianesimo all'interno dell'impero romano. e in questo documento, in pratica, era riportato che Costantino avesse fatto dono alla Chiesa della città di Roma, avesse posto la città di Roma sotto il dominio diretto del Papa. Quindi questo, in qualche modo, mostrava agli altri sovrani che il Papa aveva tutto il diritto di essere a capo della città di Roma, di essere a capo dei vari territori del centro Italia. Ora, questo documento è un clamoroso falso storico. Nel Rinascimento, uno studioso, Lorenzo Valla, vissuto nel 1400, analizzando il documento, la lingua in cui era scritto, si rese conto e diffuse la notizia che la donazione di Costantino era falsa. Costantino non aveva mai scritto quel documento, quel documento in realtà era stato realizzato nell'ottavo secolo, era stato realizzato appunto all'epoca dei Franchi e dell'alleanza tra i Franchi e il papato. È un'alleanza, dunque, quella con i Franchi, che è fondamentale per lo stato della Chiesa. È un'alleanza che ha anche una sua rappresentazione visiva ben precisa, che risale a un momento storico, la notte di Natale dell'anno 800, quando Papa Leone III, nella Basilica di San Pietro a Roma, incorona ufficialmente Carlo Magno come imperatore del Sacro Romano Impero, con l'aggettivo sacro in qualche modo si sottolinea questo legame fra il potere dei Franchi, in quanto protettori della Chiesa e della Cristianità in generale, e l'autorità del Papa. È anche il periodo, la fine dell'VIII secolo, in cui l'impero bizantino perde la sua influenza e il suo controllo sull'Europa occidentale e quindi, in qualche modo, cede l'autorità imperiale a questo nuovo regno in ascesa, che diventerà un vero e proprio impero, cioè l'impero di Carlo Magno e dei Franchi. Il Papa, in quanto all'ateo dei Franchi, diventa una figura ancora più importante, ancora più autorevole di quanto non fosse stato in precedenza. Il Papa si pone come l'intermediario fra Dio e gli uomini. Si pone come la figura che autorizza, legittima, il potere dei sovrani e degli imperatori. Il potere dei sovrani, nel corso del Medioevo, era concepito come un potere divino. In qualche modo i sovrani erano i rappresentanti in terra del potere di Dio e della volontà di Dio. Però, per ricevere questa legittimazione importante, cioè per acquisire questa valenza quasi religiosa, questa sacralità, ecco, questo essere delle figure quasi sacre agli occhi del popolo e dei sudditi, avevano bisogno, cominciano ad aver bisogno dell'approvazione, del consenso del Papa, in quanto massimo rappresentante della cristianità nell'Europa centrale e occidentale. Quindi il Papa non è soltanto il sovrano dello stato della Chiesa, di quello stato che si è costituito alla metà dell'VIII secolo, ma diventa anche un'autorità politica il cui favore, il cui appoggio, può rivelarsi fondamentale per alcuni sovrani, proprio agli occhi dei propri sudditi, o, al contrario, avere gli sfavori del Papa, avere l'ostilità del Papa, significava mettere a rischio la propria autorità. Il Papa, a partire dal IX secolo e nei secoli successivi, nel corso di tutto il resto del Medievo, di quasi fondamentale negli equilibri politici dell'Europa. Lo vedremo soprattutto a partire dall'anno 1000, quando il Papa acquisirà ancora più potere e diventerà una figura sempre più ingombrante e anche pericolosa per i vari sovrani d'Europa e perfino per l'imperatore.